Mi è arrivata da Betti una frase su questo lucciolo e mi commuovo, io ho subito bisogno di trasformare le emozioni in parole, sono principio, era il verbo, e quindi in parole poi anche risulta in azioni, cioè perché mi commuovono? Intanto perché le vediamo così distanti, astratte, fuori dal corpo, sono incorpore, sono astratte, e il loro bello è proprio che non le si possega, perché di distanza, di possesso, le trasforma in un corpo d'insetto apparentemente non correlabile a questa magia danzante delle luci. Da un certo punto di vista, cioè astenerci dal possesso, il possesso è questa fugacità della visione, però è una visione che non vorrebbe, perlomeno io quando vedo le luci, ogni volta che mi allontano mi rimane il desiderio di rimanere in un rapporto di visione con loro, cioè non sono mai sazio di osservarle. E poi, come nell'infanzia, mi parte un invidio, cioè vorrei essere loro, soprattutto voglio essere letto, voglio essere scelto da loro. Mi ricordo che anche per le farfalle, dicevo, voglio essere un fiore, voglio essere una farfalla, oppure mi mettevo lì e pensavo, venite da me farfalle. Allora c'erano queste vanesse delle ortiche, sono quelle rosse e nere, rossastre e brunastre, che tendono a volare se stai fermo sugli umani. Io ero, come dire, felicissimo di essere eletto da questa vanessa che volava, ero in questo rapporto mentale. E poi anche la parte del rifiuto degli umani, cioè io da bimbo sentivo di non amare gli umani, nemmeno con i tani, li avvertivo come feroci, crudeli, che anche con gli animali erano, con le piante, erano, fra di loro si picchiavano, e poi molto bugiardi, queste bugie che mi ferivano. E qui preferivo, preferivo tendenzialmente, mentire a me stesso, raccontarmi che ero una farfalla, per l'appunto, che avevo lo stesso splendore dei fiori, che ero la primavera, ecco, che mi fiorivano dentro i fiori, ero la primavera, che poi alla fine era il teatro, no? Era la magia del teatro, questo di rifare i fiori, rifare la primavera, rifare le lucciole, un po' un'invidia, ma un'invidia anche legata al comunicate con me farfalle, comunicate con me fiori, state in un rapporto, io poi, sempre no, ho avuto questo delirio del parlare che queste mi scegliessero, fossi almeno scelto da queste creature che io trovavo di una bellezza estrema, e quindi anche al mare, a volte mi immergevo e provavo a chiamare i delfini, a chiamare i delfini, le balene, l'idea all'improvviso di arrivare una balena perché l'avevo chiamata e mi faceva proprio entusiasmare. Ora è strano perché a un certo punto, qualche anno fa, andai da una... che leggono il pensiero, però ormai stanno in contatto con gli angeli, e mi disse che io ero stato in passato un addestratore che parlava in modo così mentale, con la trasmissione del pensiero, con i cetacei, ecco non so se questo sia vero, però sicuramente aveva accolto di me il fatto che io da bimbo avevo, aspiravo a questa capacità telepatica di relazione comunicativa col mondo animale, anche proprio questa con i delfini era una verità, per cui lei probabilmente aveva letto di me questa mia volontà di comunicazione con queste altre persone, che è sempre stata molto forte, e poi la ricollocavo nell'umano facendo appunto il teatrante, cioè reinventandomi di essere per gli altri umani che non mi piacevano, che mi piacevano fino a un certo punto una specie di... di mettere scena il teatro della farfalla, il teatro del fiore, per poi essere, sentirmi, più farfalla, più fiore che non umano, ecco. Pensate alla bellezza di mettersi lì e costruire, perché poi cosa c'hanno di bello, di umani, cioè cose che invidiavo degli umani, la loro capacità di imitazione, la loro capacità di mettersi nella posizione degli altri, se si assumono il ruolo, no, così divino, quindi trovavo divini gli artisti, perché? Perché si mettono nell'ondizione di ricreare, cioè emulano l'aspetto creativo del divino, e quindi la bellezza, ad esempio, della realizzazione di ali, fare delle ali false, questa capacità, no, così creativa, allora trovare i materiali che evocassero la leggerezza delle ali, allora dai l'innamoramento per le paillettes, che poi ho visto sono uguali alle squame delle ali farfalle, cioè le ali delle farfalle, sono praticamente di paillettes, sono mini squame, tutte collegate l'una all'altra, e creano questi colori, che sono colori sempre particolari, cioè se uno osserva una farfalla da vicino, ne avverte questa forza, e ride scena, questo rapporto, appunto, con la luce, ad esempio il blu delle morfo, è un blu che non è un blu, come dire, convenzionale delle altre cose blu, cioè rimando tutte, è un problema di cristalli, perché sono delle squame cristalle, prismatiche, che rifrangono questo blu pazzesco, ecco, allora mettersi lì, inventare delle ali di farfalla, e poi mettersele, e giocare, giocare alla menzogna, la menzogna, ma anche alla verità, di essere una farfalla, per me era veramente, il massimo della gratificazione, sempre invece distratta, la corporeità, la corporeità umana, io, cioè il corpo umano, non l'ho mai, mai veramente, molto, ben accolto, sì, ci sono delle statue bellissime, ci sono anche dei corpi bellissimi, però, poi ho fatto sempre, una gran fatica, sì, perché se riesco a fare delle ali di farfalla bellissime, no, se ho questa capacità, ma chi se ne frega del corpo, cioè, io una volta le metto, lo scavaggio, cioè il corpo scompare, divento questa, divento, ho bisogno del palco, perché il palco, è diciamo, il contesto della menzogna, della menzogna anche convenzionalizzata, ma cosa mi interessa, è di una bugia a qualcuno, di credermi divino, nel raccontare a un altro, un individuale, mirato alla salvaguardia, no, del mio interesse personale, c'è chi sente il proprio falso divino, nel dare un'immagine di sé falsa, ad un altro particolare, perché si sente così potente, sente di controllare l'altro, a me questo non mi è mai piaciuto, non mi è mai interessato, mi è sempre interessato, ridare un'immagine, ricreare, ecco, la forza del teatro, anche attraverso la parola, anche attraverso la parola, ma per me la parola è più spiegante, più filosofica, più raccontante, la parola saggistica, del saggio, ecco, la riflessione, l'aspetto naturalistico della parola, cioè ora scrivo una commedia, no, non sono perché, bisogna entrare troppo nell'umano, essere, sentire l'umano come prossimo, ecco, io l'umano faccio fatica, perché se mi medesimo nell'altro, io a volte vedo delle cose che, vabbè, insomma, forse sono sbagliato io naturalmente, però per me è più semplice, è anche più, ovviamente più semplice, cioè, creare, fare un mestiale di farfalla, sentirmi una farfalla, in un contesto di menzogna convenzionale, come quello del teatro, la grande, la mande, magia, menzogniera, del teatro, e poi per me è anche il teatro di Burattini, io mi sento sia Burattinaio, che Burattino, l'idea di creare i Burattini, no, che è il sintomo del Demiurgo, la messa in scena della divinità, pensa a Collodi, no, perché questo romanzo ha avuto successo, perché Geppetto è il mito dell'artista, di colui che si fa il figlio in modo artistico, no, della creatura prodotta dall'arte, in cui entra in un rapporto, la bugia, la menzogna stupenda, chi è il vero bugiardo? Non è Pinocchio, è Geppetto, no, che si inventa, che questo Burattino, è così bravo, se lo inventa vivente, e io sono un po' così, sono un po' stregato dall'idea di mettere, di rifare la primavera, di rifare i fiori, è come una corolla di seta rossa sulla testa, io mi sento subito un papavero, cioè in realtà poi non ho nemmeno più bisogno, questa ho più nell'infanzia, di questa corolla rossa, io vado in un campo di papaveri e già mi immagino uno di loro, mi metto lì, mi piace più farmi prossimi miei, le piante, i fiori, gli animali, le rocce, che no, gli umani, lo so, oppure gli umani ma nell'infanzia, nell'infanzia sì, io li sento, sento i loro bisogni, riesco a immedesimarmi in loro, ma per esempio l'umano che vuole guadagnare, ha bisogno di soldi, non ce la faccio a sentirlo, ma è prossimo mio, non ce la faccio a identificarmi lui e aiutarlo a fare soldi, ma ne frega nulla, capito, mi fa tristezza, o l'umano cerca un'infinità di fidanzate, o l'umano, cioè questi umani qui, di questi umani, non riesco a prendere la prossimità, non riesco a sentirne l'urgenza emotiva e a renderti felici, mi intristiscono, ecco, quello che mi intristisce, che non mi emoziona, è quello che, che, che io non, alla fine poi non lo amo, significa amare, significa appunto, essere in grado di mettersi nella sua posizione, e di fare delle cose per renderlo felice, ecco, io quello che, che vuoi la Ferrari, e che con la Ferrari è felice, mi fa una malinconia, mi fa una malinconia, non ce la faccio, è leggere lo prossimo mio, quanto di più distante, più di un marziano, ecco, per me un marziano, è ineleggibile, come, come, come prossimo, del tutto ineleggibile, quello che, che, che ci ha, sedici fidanzate, o, o, che racconta a un altro, una cosa che non è vera, per poterlo controllare, ma, mi fa malinconia, è di una malinconia estrema, non ce la faccio a renderlo prossimo, anche se, anche io ho queste debolezze, ma preferisco farmi prossimi, i girasoli, cioè, voglio essere un girasole, non datemi il girasole, fatemi essere liberamente un girasole, fatemi essere un cigno, per cui, alla fine, sì, che meraviglia Luigi Ontani, cioè, che meraviglia gli artisti, e si mette lì, che, che fa l'eda, si identificano l'eda, il rapporto con il cigno, e a questi sono umani, che mi piacciono, perché leggono cose, in cui, ho la forza, di, eh, riconoscermi, ecco, quindi, non, sono un po' limitato, sì, sono un po' limitato, lasciatemi fare la tarma del legno, che entra in questo, che lo divora, lo corrode, sta tarma, splenso, tarlo, tarma della lana, tarlo del legno, ma non fatemi fare, quello che fa la fila, per andare a vedere un concerto, non ce la faccia, vedremo il prossimo mio, no, cioè, sono più vicino ai tarli della lana, o allora, o sarà, se non mi sento più amante, dei tarli della lana, che amante, di questi fanno file e file, per andare a vedere un altro, e canta, ma canta te, ma assumiti, le loro responsabilità, fatti le tue anzoni, o senti l'ondi ferita, no, tutti lì, aggrumati, bravo, a sbracarsi, no, no, è quanto di più lontano, da me, più vicino a un venusiano, sono, e allora, oh, infatti, non ho molti amici, anzi, veramente, una qua, un quota, un quota, limitatissimo, e, ci sono molte più farfalle, che mi ammirano, e che io ammiro, di oanti umani, sì, qui per esempio, ora sta avvenendo, una sfinge meravigliosa, una spirotromba, su queste dalle, ma senti, ma no, non l'amo, ma sono lei, ma è una prossima assoluta, mi sento lì, con questa spirotromba, sulla dahlia, ma sì, ma che meraviglia, zzzzzzz